L'ozonoterapia è una metodologia che da qualche settimana viene applicata anche sui pazienti della clinica San Michele di Manfredonia e Villa Igea di Foggia, entrambe facenti parte del gruppo Salatto. Ieri sera alla presenza del dottor Giuseppe Lembo, responsabile del reparto di geriatria, del dottor Michele Capuano, responsabile radiologo, casa di cura San Michele, si è svolto un forum durante il quale sono stati illustrati i benefici dell'ozonoterapia dall'artrosi al conflitto nervoso. È una metodica innovativa, scevra da rischi e soprattutto ricordo sempre che l'ozono non è un farmaco, è un gas naturale presente nell'atmosfera, quindi non va ad interagire con nessun altro farmaco innanzitutto e lo possono fare sostanzialmente chiunque, dal diabetico all'iperteso, dall'anziano al bambino. Le patologie più frequentemente trattate in ambito ortopetico sono quelle legate alla componente muscoloscheletrica. Sostanzialmente tutte le patologie della colonna vertebrale, se escludiamo solamente la patologia neoplastica. Un trattamento risolutivo che può evitare l'operazione ancora Capuano. Nelle ernie lombari siamo addirittura terapeutici, cioè l'ozono iniettato all'interno del disco va a ridurre l'ernia e quindi il paziente possiamo salvarlo da una chirurgia demolitiva e parecchio aggressiva.